L'evento è un concorso ASI di eleganza. Sostanzialmente l'ASI durante l'anno dà la possibilità ai club di organizzare questa manifestazione dove arrivano tre giudici che mandano direttamente loro che devono giudicare queste auto per una serie di cose. Innanzitutto lo stato di conservazione, la qualità dell'eventuale restauro e poi valuteranno anche altri aspetti che possono essere il motore come conservato, gli interni se sono stati rifatti o meno. Quindi alla fine viene dato un punteggio. Hanno aderito 45 auto, alcune molto importanti, delle macchine che i possessori custodiscono gelosamente perché magari ce ne sono soltanto tre in tutto il mondo, ce ne sono dieci, oppure una versione molto particolare che ha soltanto delle cromature diverse dalle altre. Quindi ogni macchina ha una sua storia. La manifestazione consiste nel posizionare le macchine sul prato, ci saranno tutte le caratteristiche esposte delle macchine a disposizione innanzitutto dei giudici che devono valutarle, ma anche dei turisti che vogliono vederle e potranno riconoscere singolarmente ogni macchina. Quindi i giudici passeranno a controllare ogni singola macchina, dopodiché esprimeranno questo giudizio. Alle macchine vincitrici verrà apposta una coccarda, dopodiché queste macchine sfileranno tutte e 45 macchine, verranno presentate da uno speaker che racconterà la storia di queste macchine e alla fine di questo verranno date le coppe alle 13 categorie. Alla fine della manifestazione diremo quale sarà la macchina best of show che verrà premiata e quindi farà una seconda sfilata per presentarla al pubblico e per applaudirla e farla vedere meglio.